Una lodevole gara di solidarietà per l'ospedale di Branca da parte di fondazioni, ditte, associazioni, istituzioni e cittadini privati con diverse donazioni, alcune delle quali riguardanti innovativi macchinari pronti all'utilizzo nel reparto di medicina generale. L'abbiamo visto come una vicinanza per chi è in prima linea, cioè per tutti gli operatori che in questo momento si trovano a gestire questa guerra contro il coronavirus. Il mio ringraziamento da parte anche dell'azienda e di tutti gli operatori del nostro presidio ospedaliero va a tutti quei benefattori che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e che ci stanno consentendo di superare questo periodo davvero molto difficile e che speriamo di superare il prima possibile. Quattro ventilatori, respiratori touchscreen di nuova generazione donati da Colacem, sette monitor multiparametrici innovativi donati da CVR e tre ecografi palmari a colori donati da Siami di Sauro Notari. Queste le aziende che hanno voluto fattivamente sensibilizzare in questo complesso momento di emergenza sanitaria dotando l'ospedale di Branca di apparecchiature che oltre ad essere nuove, estremamente qualitative e di assoluta precisione hanno in comune la notevole praticità, visto che le dimensioni ridotte danno la possibilità di trasportarle praticamente ovunque a partire proprio dal ventilatore donato da Colacem, il cui utilizzo è spiegato dal primario di medicina generale dell'ospedale di Branca, Stefano Radicchia. Questo respiratore come vedete è estremamente duttile e oggi è molto importante che i respiratori abbiano un'interfaccia semplice sia nell'emergenza e sia anche per i medici che non sono esattamente degli pneumologi però voi vedete che qui praticamente c'è un display che è assolutamente touchscreen in cui noi possiamo selezionare direttamente in maniera automatica se abbiamo a che fare con un adulto, un bambino o un neonato e che tipo di ventilazione vogliamo ottenere basandoci su parametri pressori o su parametri volumetrici. Vedete che è completamente autonomo, quindi ha una sua autonomia di attività essendo implementata da una batteria ad alta portata e inoltre è moderno soprattutto per la risorsa di avere due tipologie di attacchi per ossigeno, uno ad alto flusso senza necessità di avere un erogatore ad alto flusso e uno invece a basso flusso da bombola. CVR invece ha donato i monitor multiparametrici, veri e propri check-in del corpo umano, immediati e ultra precisi. Hanno una traccia elettrocardiografica con esattamente sette derivazioni, le periferiche più una precordiale hanno la misurazione della temperatura corporea, hanno la pressione arteriosa e hanno la frequenza cardiaca e la saturazione in tempo reale. L'utilità di queste apparecchiature è che hanno una memoria, per cui io posso fare una ricerca degli eventi nelle 48 ore precedenti, quindi se c'è stata un'aritmia e è stata archiviata io la posso richiamare interrogando l'apparecchiatura. Infine gli ecografi portatili a colori, donati da Siami, altro gioiellino sanitario che rileva con prontezza e chiarezza qualsivoglia problematica del paziente come ci dimostra sempre il dottor Radicchia. Questa apparecchiatura, come vi dicevo, è un'apparecchiatura estremamente versatile ecco vedete che consta di una sonda multifrequenza con cui noi da un lato possiamo esplorare gli organi profondi e il cuore e dall'altro possiamo esplorare gli organi superficiali e i vasi e nello stesso tempo noi possiamo registrare il nostro referto e inviarlo direttamente tramite wifi oppure con una porta USB all'apparecchiatura, diciamo al pc eccetera. Vedete che è possibile valutare più organi, possiamo fare l'ecografia toracica molto utile in questo periodo per i pazienti affetti da Covid e noi possiamo vedere se il polmone è umido direttamente con questa sonda quindi anche a casa del paziente possiamo vedere quanta è compromessa la funzione respiratoria ecograficamente oppure possiamo vedere i tessuti molli, cioè tiroide, superficiale eccetera, articolare oppure possiamo vedere i vasi, quindi si seleziona la sensibilità della sonda relativamente a quello che vogliamo vedere ecco e qui vedete che io vedo il collo, vedo la tiroide, la trachea ecco vedete che è possibile anche in questo caso avere informazioni relativamente alla circolazione perché l'apparecchiatura è implementata con l'effetto color doppler e quindi qui è possibile vedere contemporaneamente la circolazione all'interno del vaso ecco